Iniziano a vedersi i primi segni di una nuova viabilità all'incrocio tra la statale adriatica e la raveniana a Ravenna. Da mesi infatti si sta lavorando per costruire una rotonda che vada a sostituire l'impianto semaforico nell'intersezione tra le due strade perché, nonostante l'installazione del T-RED che multa coloro che attraversano Corrosso, non è servito ad evitare che l'incrocio veritasse la denominazione di killer visto l'elevato numero di persone decedute in cui pochi metri di asfalto. Per completare il primo stralcio dei lavori che dovrebbero essere ultimati entro il mese prossimo e aprire la prima parte della viabilità di collegamento, dalle 22 alle 6 del mattino sarà chiusa l'adriatica in quel tratto ed è stata predisposta la necessaria presenza di polizia stradale e municipale per regolare il traffico che, seppur minore, viste le ore notturne, sarà comunque presente lungo la trafficata arteria. Sarà così possibile ultimare la segnaletica orizzontale e verticale e aprire almeno parzialmente la tanto attesa rotonda. Nell'area circostante sono ancora molti i lavori che si stanno facendo all'asse viario e che andranno a completare la rinnovata viabilità. Per questo i cittadini e gli automobilisti di passaggio hanno modo di vedere tanti cantieri stradali attivi a ridosso dell'adriatica e del parcheggio del centro commerciale che si affaccia sulla statale.